Negli ultimi 5 anni Avigliano ha visto aggravarsi il problema della viabilità interna Della viabilità extraurbana Specie verso la città di Potenza e San Nicola Della qualità del vivere urbano Non è rispettoso nei confronti della nostra comunità Ricordarsene 15 giorni prima della scadenza elettorale Con proclami o interventi improvvisati e fattinali Avigliano e gli aviglianizi meritano molto di più Avigliano ha bisogno di fuoriuscire da una condizione di isolamento In particolar modo sui versanti Potenza Murphy e Potenza Salerno Va urgentemente ristabilito il rapporto con il capoduovo E ridefinito il nostro ruolo all'interno del piano strutturale metropolitano Avigliano non può più permettersi di subire una condizione di isolamento Avigliano non può più permettersi di subire una condizione di isolamento